ciao a tutti amici e amiche del giornale atipico oggi voglio occuparmi di un argomento del quale in realtà mi sono parzialmente occupato durante l'ultima live reaction di coppa italia parlo ovviamente di genoa reggiana e proprio di coppa italia voglio parlare anche oggi perché perché durante quella live mi è stata fatta una domanda alquanto interessante alla quale io parzialmente risposto mi viene da dire e ho parzialmente risposto un po perché ero in live parlando della partita e un po perché ovviamente il discorso sarebbe stato più lungo da fare il format della coppa italia c'è un pro e ci sono dei pro e ci sono dei contro un po come quasi tutto nella vita nel proprio punto perché stiamo vivendo dei periodi in cui il fattore diciamo bellico non nulla di positivo lo sappiamo bene ma tornando invece al calcio ea cosa più alleggere qual è il fattore negativo di questa di questo forma perché la coppa italiana in serata non è niente di negativo perché una coppa nazionale come ce ne sono tante nel nel mondo però quello che io trovo negativo è il fatto che rispetto a prima anche non si dia la possibilità a tante squadre passate in termini di serie minori ecco voglio usare questo termine per per non essere offensivo nei confronti di nessuno di giocarsela veramente questo perché non si adotta ad esempio un uno schema alla fi cup passatemi anche questo termine uno schema ma l'inglese in cui si potrebbe permettere a tutte le squadre di giocarsela anche se poi si sa che salvo sorprese difficilmente le piccolissime arriverebbero troppo in alto però quantomeno si dà più spettacoli da più possibilità tutte visto che è una coppa nazionale quindi sarebbe secondo me da fare un format che permetta un po a tutte di giocarsi o se non a tutte a buona parte eh anziché solo a a alla b e eh a quattro cinque decise non ricordo male eh però al dia di di quante sono quelle decise è comunque poco questo format però nasconde eh due positività due positività che riguardano in primis un aspetto eh prettamente economico mediatico perché perché l'accordo con Mediaset che è stato rinnovato per anche per i prossimi tre anni fino al duemilaventisette eh permette a differenza di quello che si faceva con la Rai di non far vedere solo le gare dagli ottavi in poi ma di far vedere tutte le gare eh forse è tolto il turno tra quelle di serie C se non ricordo male tutte le gare che eh da agosto in poi vanno a a essere protagoniste di questa di questa competizione cosa che probabilmente col format vecchio era più difficile da fare si poteva fare ma era un po' più complesso probabilmente di riuscire a darle tutte in in questo modo ehm quindi questo è un lato sicuramente positivo che rende positivo anche per chi eh magari ad agosto è in vacanza come eh oppure per chi ad agosto ha problemi di movimento per qualche motivo o chi ce l'ha comunque in generale come nel sottoscritto eh di vedere la propria squadra in Coppa Italia anche eh anche nei turni diciamo minori passatemi il termine nei turni eh preliminari quelli precedenti quindi c'è il lato positivo da questo punto di vista ma torno a un lato negativo che secondo me esiste ed è quello che non permette molto di eh aiutare le mh diciamo le piccole o quantomeno le eh le squadre che in gradatoria sono eh in un grado inferiore perché perché eh a differenza delle fake up dove si gioca il turno ad esempio nel campo di quella appunto più eh di grado inferiore in Coppa Italia si gioca sempre nello stadio di del grado superiore e questo permette un anche a livello di pubblico un arricchimento solo da parte della eh della società diciamo già più più grande quindi anche questo è l'ennesimo eh aiuto alle grandi anziché un bilanciamento economico eh che già ho criticato non esserci quelli del TV vi lascio semmai il video qui sopra quindi anche questo è un altro problema perché se tu vuoi eh rendere quantomeno più non dico più equilibrato ma dare un senso di ehm di parità lo dai anche in questo modo secondo me cioè dando il pubblico a favore a chi teoricamente è meno è meno supportato da altri fattori tanto è vero che si nota anche nel fake up proprio il fatto che molte squadre piccole spesso possono andare a far risultato contro squadre molto molto più blasonate supportate dal proprio pubblico cosa che secondo me a livello morale non ha poco eh significato eh poi cos'altro potrei dire su questa Coppa Italia direi poco nulla da un certo punto di vista eh giusto farla a turno secco probabilmente farei anche le semifinali a turno secco cosicché mi permetterai di fare qualche turno in più anche precedentemente eh o gestire meglio il calendario e quindi aprirlo a più squadre come ho detto prima e direi che queste sono un po' le le riflessioni che mi vengono da fare adesso come adesso altra cosa da dire è mh sono d'accordo e qui entro in un discorso più eh genuano sono d'accordo con Blaskia quando ha detto non dobbiamo sdobbarla però nell'essere d'accordo con questo devo anche ammettere che eh un po' per il format che ho criticato precedentemente e un po' per eh appunto la qualità che si che possono avere le rose delle squadre chiamiamole minori di questa competizione eh diciamo che forse da un certo punto in avanti anche se non riesci ad andare avanti ma devi puntare magari a far meglio nel tuo campionato nel tuo eh campionato di riferimento me ne frego quasi del risultato eh se invece si cambiasse il format e si desse un po' più di equilibrio forse sarebbe anche più facile non sdobbarla mentalmente anche per noi tifosi oltre che per le squadre in in se al di là delle belle parole che ovviamente si possono dire mh quindi eh per per rifarmi a eh Lazio e Genoa che ci sarà credo a gennaio eh anche qui io chiedo la prestazione ai miei non chiedo sicuramente una vittoria assicurata poi se arriva la vittoria ancora meglio si va avanti detto questo fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti e vi do appuntamento a un prossimo video o una prossima live un saluto a tutti da vostro geno anatipico ciao ciao